Buongiorno e buona domenica dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, da domani fino a venerdì in orario 8.14, sarà chiuso in entrambe le direzioni il tratto in località Popiglio. Sulla strada regionale 429 di Valdelsa, fino a venerdì in orario 7.18, deviazione del traffico veicolare tra i chilometri 43.500 e 43.700 in località Zambra, nel comune di Barberino Tavarnelle. Per la viabilità cittadina, ordinanza antismog prorogata fino a martedì a Firenze, Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Visenzio, Signa, Lastra, Signa, Scandicci e Bagnarripoli. Informazioni sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!